Rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini di tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana. Questo è lo scopo del contratti di convivenza open day che si svolgerà sabato prossimo presso il consiglio notarile distrettuale di Arezzo in via Campo di Marte presso la galleria Casentino numero 2. Gli uffici saranno aperti ai cittadini per l'intera giornata con una serie di incontri informativi a cura dei notai in merito ai contratti di convivenza. Secondo gli ultimi dati istat infatti in Italia vi è una progressiva diffusione delle famiglie di fatto che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-2011. In particolare sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l'incremento più sostenuto arrivando a un numero pari a 578 mila nell'anno 2010-2011. È un'esigenza che è avvertita sul piano nazionale in considerazione del fatto che i dati statistici segnalano delle convivenze in netta ascesa. Numericamente sta per sfondare il tetto di un milione, 978 mila erano quelle rilevate nel 2011 a fronte di un sensibile calo dei matrimoni. Il consiglio nazionale del notariato ha pensato di destinare un'intera giornata alle consulenze di chiunque voglia fra i conviventi aver bisogno del supporto di un operatore del diritto. Si tratta di una materia estremamente fluida, non codificata, di conseguenza è opportuno che possa prendere la forma contrattuale che con il supporto dell'operatore del diritto e anche in considerazione delle esigenze che ogni convivente vorrà manifestare, questo contratto potrà assumere. È completamente gratuita e invito a chiunque voglia intervenire a partecipare a questa giornata e avrà inizio dalle 10 della mattina fino alle 12 e 30 e riprenderà dalle 15 del pomeriggio fino alle 18. Ci alterneremo perché la giornata si svolgerà in questo modo, ci saranno delle relazioni illustrative e poi anche una parte verrà dedicata alle consulenze di chiunque ne abbia bisogno.